Cinque anni per dare alla Locride un volto nuovo, moderno, efficiente e competitivo. E' l'obiettivo del corso come il coordinamento delle organizzazioni sociali e culturali del comprensorio. Ad ascoltare le stanze dell'associazionismo riunitosi ieri a Siderno, il presidente degli industriali reggini Giuseppe Nucera. La Locride è un territorio ricco di cultura, di enogastronomia, di spiagge bellissime, quindi è il territorio ideale per l'attività, per lo sviluppo del turismo. Ma non è solo turismo, è tutto un insieme di risorse che questo territorio offre, per cui si può veramente puntare a fare turismo non solo nel periodo estivo, ma tutto l'anno. Il Corsecom ha fissato otto priorità per lo sviluppo del territorio, dalla sanità alle infrastrutture, passando per il turismo religioso e il microclima, al fine di rilanciare l'economia, attirare investimenti e migliorare tanti servizi. Ilario Balì, per la C News 24.